Il drogato da telefonino Facciamo alcuni esempi Riportando solo le frasi del cellularista Lasciando alla vostra fantasia la parte dell'ingallonore Conversazione affrettata Scusa di no, ma mi sta scaricando la batteria Devo dirtelo in fretta, mi ha telefonato il portinale Che la nonna è morta, dovreste andare su da lei a terzo piano E sfondare la porta Ma sta attento che c'è una trapuzza di gas E già lì ci sei, guarda nel garage Se c'è l'auto perché è in porfinaio Ma anche detto che stamotte li hanno sfondati tutti Com'è andata? Chiedo della mia stamattina E scusi, ma un'ultima cosa Cosa ha fatto Inter? E beh... Conversazione i rosa Che cazzo vuoi? Dove cazzo è ieri sera? E io che cazzo ci posso fare? Vieni che vado a fare in due o due tutta la sua baracca Ma non ci penso nemmeno Cazzo i tuoi Certo Ciao amore A stasera Amore Per conversazione urgente di lavoro Eh, sono Borghi C'è Dottor Lamanna? Eh, Lamanna? Ah, no Sono Borghi Vorrei Dottor Lamanna Eh, Dottor Lamanna Eh, sono Borghi Ah, ah, non è lei Ma, ma me lo può passare da lì? Eh, sono sempre Borghi Santo Dio Mi può passare la vanna Scusi eh Ma un'ora che finite che mi passate la vanna Me lo passate ora Borghi Sono Borghi Per Dio Ah, cosa voglio? E cosa voglio? Voglio il popolo l'Avanna L'Avanna Ah, ciao Sono Borghi Scusa eh I popoli che va dentro l'olenta che adesso ho da fare?